Buongiorno, Meglin. Buongiorno, dottoressa. Come ti senti oggi? Bene. Hai notato dei miglioramenti dell'ultima volta? Sì. E per quanto riguarda quella cosa, hai smesso di utilizzarla, vero? Sì. E da quanto tempo? Da qualche settimana. Bene. Lo sai che non ti è d'aiuto. E hai provato ad uscire un po' di casa? Sì. Stamattina sono riuscita. Ho preparato anche la collezione. Bene, Meglin. Sono fiera di te. E dove sei andata? In ufficio. Ah. E è stato piacevole ritornarci? Sì. Ho anche incontrato ella. Ciao, Meglin. Disturbo? Ciao, Edo. No, dimmi. No, niente. È che... È da un po' che non ti vedevamo e... Noi stiamo andando a mangiare. Ti vuoi unire? È che in realtà mi sono portata al pranzo da casa perché devo assolutamente finire questo lavoro. Mi dispiace. No, dai. Non ti preoccupare. Allora ci ho provato. Allora, buon lavoro. Grazie. Ciao. Meg. Meg. Ciao, Meg. Ehi, Edo. Tutto ok? Tutto bene, tutto bene. E... Senti, Edo un po' che ci penso e vorrei chiederti assolutamente una cosa. Dimmi. Ti... Andrebbe di uscire con me? Sì. Sì? Sì. Stasera? Ah. Stasera. Va bene. E... Ti posso prendere per le otto, allora? Ok. Ok. Allora... A più tardi. A più tardi. Ciao. Ciao. Ah, bene. Quindi la rivedrai stasera? Sì. E non sei contenta? Non lo so. Ho paura. Non devi aver paura, Meglin. Ora, torna a casa. Rilassati. E vedrai che stasera andrà tutto per il meglio. Sì, semplicemente, Meglin. La vera Meglin. La vera Meglin. E vedrai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma tra l'altro hai sentito quella roba che metti gli affari in testa e puoi controllare un avatar? Intendo mai mi? Ah sì, mai mi. Sì, un mio amico l'ha comprato perché non vuole mai portare fuori il cane a pesciare. Pensate che livelli. E tu l'hai già usata? Mmm, sì, tu? Una volta, eh? Da questo mio amico. Però mi hai bastato decisamente. Cosa intendo? Ma non lo so. A me non è piaciuta per niente. Allora, sì, è fantastico che ci sia un avatar che fa tutto. Però, non so. Cioè, non sei tu. Capisci? Sì, sì, sì. Capisco. Ma poi il fatto che se ne abusi ti può portare a distacco dalla realtà. Non so, mi mette un po' il brivito. Sì, veramente. Dai, ma adesso basta parlare di questa robaccia, avatar, la raffinzione. Prendiamo a noi i vini che mai incarnavano. Sì. Prendiamo a noi i vini che mai incarnavano. Prendiamo a noi. 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 Prendiamo a noi.